Tante persone vogliono imparare l'ebraico biblico ma lo trovano troppo difficile o spaventoso e lasciano stare prima di iniziare sul serio. I pochi studenti che fanno progressi fanno fatica a trattenere ed utilizzare quello che hanno imparato. Questo è il problema. La maggior parte delle persone nel mondo non sono portate ad apprendere una lingua utilizzando un libro di testo e memorizzando tantissime regole. Invece impariamo meglio una lingua facendo un'esperienza diretta dunque ascoltandola e parlandola. Tutti hanno la capacità di apprendere una lingua nel modo naturale con il quale hanno imparato la loro lingua madre. Pensaci. I due genitori non hanno iniziato con l'insegnarti l'alfabeto e la grammatica quando eri bambino. Loro semplicemente ti parlavano tu li ascoltavi e allora iniziavi a capire e parlare un passo per volta. Dopo eri pronto a imparare l'alfabeto. I nostri video gratuiti ti aiuteranno a sperimentare questo modo immersivo e naturale di apprendere. Più guarderai più aumenterai la capacità di apprendere. Questo modo naturale di imparare una lingua è molto più divertente ed efficace nel tempo perché i suoni e la grammatica dell'ebraico biblico entreranno a far parte della tua memoria a lungo termine attraverso la ripetizione e l'uso. Dopo aver appreso qualche vocabolo e la grammatica in maniera intuitiva con i nostri video potrai pian piano avvicinarti all'alfabeto ebraico ed eventualmente imparare a leggere. Abbiamo creato questo videocorso gratuito per aiutare i traduttori della bibbia e le chiese in giro per il mondo ad imparare e migliorare la loro comprensione delle scritture. Non sentirai l'inglese o altre lingue oltre l'ebraico nei nostri video gratuiti. Quindi chiunque può proseguirci e imparare. Il nostro obiettivo è farti sperimentare l'ebraico con una lingua vivente invece di memorizzare liste di regole grammaticali e vocaboli. Non hai bisogno di un libro di testo. Non ti meravigliare se all'inizio ti sentirai un po' disorientato. È normale. Sicuramente ti sentirai nuovamente un bambino cercando di capire cosa stia succedendo. Qualche volta questo fa sentire gli adulti a disagio ma fa parte dell'apprendimento. Semplicemente divertiti. Se persevererai e guarderai i video più volte i suoni e le strutture inizieranno ad essere parte di te. Più continuerai in questa direzione più inizierai a vedere il valore pratico di imparare una lingua piuttosto che imparare riguardo ad una lingua. Sarai sorpreso di quanto avrai imparato dopo aver guardato solo qualche video. Se non ricordi tutti i vocaboli non preoccuparti. Semplicemente rilassati e guarda di nuovo il video. Mi raccomando accertati di guardare le lezioni in ordine. Sono sistemati in una playlist linkata in descrizione. Allora cosa stai aspettando? Iscriviti al nostro canale e inizia ad imparare l'ebraico biblico. Per favore aiutaci a condividere questi video gratuiti con amici di altri paesi che potrebbero essere interessati ad imparare l'ebraico. E prega per noi così continueremo a fare altri video gratuiti per aiutarti a sperimentare la gioia della parola di Dio nella sua meravigliosa lingua originale. Shalom, pace a voi. Grazie a tutti.